Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come fare per abbassare il ponte in Minecraft Dungeons, direttamente nell'accampamento. Se avete appena iniziato l'avventura e raggiungete il ponte, lo trovate alzato. Come fare per andare dall'altra parte? Allora, la prima cosa da fare, non voglio scoraggiarvi, ma dovete finire il gioco. Ci sono tre livelli di difficoltà nel gioco. Infatti, quando selezionate la missione e selezionate le difficoltà premendo Y, ci sono tre livelli di difficoltà. Voi iniziate da normale. Una volta che avete completato il gioco, passate ad avventura e poi ad apocalisse. A voi, diciamo, serve solo completare il gioco una sola volta. Una volta che, a livello normale, avete completato tutte le missioni e quindi anche quella finale, avrete la possibilità di abbassare il ponte. Ma non andate subito al ponte perché lo troverete alzato. Quindi, dovete andare in prossimità della vostra abitazione e qui troverete queste piattaforme che sono presenti solo nell'ultimo livello di gioco, se non vado errato. E verranno sbloccate non appena avrete finito il gioco. Oltre alla possibilità di abbassare il ponte, potrete accedere anche a questo forziere contenenti delle gemme. Quindi, andate qui nel bosco, non si vede niente dall'alto, lo so, e attraversate questo boschetto. Raggiungete il ponte e premete questo pulsante. Ora il ponte verrà abbassato e potrete passare ogni qualvolta senza dover ripetere l'intera procedura. E una volta che avrete abbassato il ponte, potete sia andare in missione che accedere a questa sorta di tempio di cui vi parlerò in un prossimo video. Grazie.